Il REC di DANDE è di 2021, un totale di 430, da chiedere in persona di... per il coro, e ora come si vede a vedere la possibilità di creare la gente, come sempre la gente, con il sentimento, con la entrega di DANDE. Se per la entrega, non si vede a la gente, non si vede a la sentenza. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it e anche un ragazzo che è partecipato e per me come un cantante, un cantor di Dande è stato molto orgoglioso per me direzione per me come un'altra È un hobby buono, ma tendenza che è tremenda. Mi stava di bai e premiare, però mi stiamo a cooperare con me nel trening, quindi mi sacrifica è premiare per me descansare il tempo a buona notte. Il messaggio è per Ivan Dorsetton. Ainda non sono a Sali FG, però c'è una luce nel horizonte, non sto mirando come malezza, sono di masnobo, è meno effettivo, è meno agressivo contro la gente. Quindi mi chiede che sia un buon senale con il Dio mediante il nostro bisogno di farlo di DG. Quindi noi ci siamo chiedi a mantenere la speranza in cui ora passa, non sta clai per andare a fare, per andare a fare il paese di lante. Spero che sì. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! grazie